Avviata una convenzione tra poste italiane e l'arma dei carabinieri, per cui i pensionati di età superiore ai 75 anni potranno richiedere per tutto il periodo dell'emergenza la consegna della pensione a domicilio, evitando così di recarsi negli uffici postali. A ritirarla per loro potranno essere i carabinieri. Dal servizio però sono esclusi alcune categorie, come chi ha già delegato altri soggetti alla riscossione o chi vive con i familiari. L'accordo ha lo scopo di limitare al minimo gli spostamenti delle persone, in particolare dei soggetti a maggior rischio. L'iniziativa permette anche di tutelare i pensionati da truffe, rapine e scippi. In pratica i carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli uffici postali per riscuotere le pensioni, per poi consegnarle a casa dei beneficiari che hanno fatto richiesta, contattando il numero verde 855 66 70, messo a disposizione dalle poste o chiamandola più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni.